Un saluto a voi tutti. Somma Lombardo si prepara un altro weekend di iniziative interessanti e coinvolgenti, due in particolare quelle che vogliamo presentarvi in questa puntata. Cominciamo dalla presentazione di una guida, la prima nel suo genere. È dedicata al cammino di Santiago de Compostela e a presentarcela è il suo autore Pietro Cidurlo, della Free Wheels Onlus. Appuntamento sabato 14 nella biblioteca di Via Marconi alle ore 16. Mi chiamo Pietro, sono un ragazzo di Somma Lombardo e a seguito di un percorso, di un pellegrinaggio fatto a Santiago de Compostela nel 2012 con la mia handbike, ho pensato di poi fondare un'associazione che potesse avvicinare molte più persone possibili, tutte le persone al turismo lento, al turismo a piedi o in bicicletta. Per fare questo avevo già raccolto innumeroli dati durante il mio primo pellegrinaggio perché avevo sempre avuto in mente l'idea di realizzare in qualcosa, una traccia per il prossimo. E così facendo e ripercorrendo nuovamente il cammino francese verso Santiago de Compostela mi è stato poi chiesto di scrivere la prima guida accessibile su questo itinerario. Un itinerario riconosciuto patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1985 e non ancora del tutto accessibile alle persone con una ridotta mobilità. Nasce così il progetto Santiago per tutti. Santiago per tutti era l'idea di un ragazzo, una mia idea, quindi l'idea di lasciare qualcosa che permettesse veramente a chiunque di intraprendere questa esperienza. È diventato poi un progetto di un gruppo di pellegrini e oggi è una guida, una guida cartacea edita da Terre di Mezzo e scritta da me e da Luciano Callegari. Questa guida è una guida molto completa rispetto a tutte le altre in commercio. È la prima guida al mondo con indicazioni per tutte le persone, quindi non solo disabili motori, non solo disabili sensoriali ma anche normodotati. Si chiama Santiago per tutti proprio perché si rivolge a un pubblico vasto, si rivolge ai trapiantati idealizzati, si rivolge alle persone che non possono portare molto peso. Contiene tre tracciati, quindi il percorso storico, un percorso completamente asfaltato e un percorso accessibile a ausili da fuoristrada, quindi parliamo di handbike da fuoristrada, da carrozzine da fuoristrada, evitando tutti i punti diciamo pericolosi. Non ci bastava solo questo. Abbiamo realizzato durante le fasi di mappatura anche un cessimento completo di tutte le strutture dove le persone potrebbero fermarsi a dormire e a pranzare, indicando il grado di accessibilità. Tutto questo oggi finalmente approda a Sommalombardo, una presentazione che verrà fatta il sabato 14 novembre presso la biblioteca comunale, dove vi invitiamo e dove il programma sarà molto ricco. Il programma prevede appunto un'iniziativa che si chiama Mettiti alla prova, dove faremo provare cosa significa viaggiare su sedia a rotelle, dove significa camminare su una sedia a rotelle alle persone non dotate e far capire come l'urbanizzazione alle volte può infliggere delle pene a noi molto dure, magari semplicemente non raccordando un marciapiede al suolo asfaltato in maniera perfetta, in maniera regola d'arte. Dopo Mettiti alla prova inizierà la presentazione e ci saranno tra i relatori anche Marco Giovannelli, direttore di Varese News e Riccardo Latini insieme a me, che è un autore di diverse guide sui cammini europei. Dopo la presentazione un buffet realizzato grazie all'aiuto di tutti i commercianti di Sommalombardo che hanno voluto essere pronti a rispondere a questa iniziativa, a questa visione iniziativa in maniera fattiva. Durante il buffet ci sarà anche una grande sorpresa che non vi diciamo, ma vi aspettiamo numerosi e venite ad ascoltare come è stato possibile realizzare questa guida unica al mondo. Grazie a tutti.